Ecco, può essere che qualcuno ascoltando in questa domenica dire il nuovo anno liturgico, prima domenica di avvento, giù in chiesa possa sospirare e dire ecco, riprende la solita storia. Solita storia perché l'anno liturgico in effetti è ripetitivo. E allora Don Riccardo, partiamo un pochettino da qui, dal fatto che mentre noi annunciamo il nuovo anno, invece che fare un bel brindisi magari all'acqua santa, visto che siamo in chiesa, roba da poco in effetti per l'occasione, potrebbe a un certo punto prenderla come una faccenda che talmente si ripete da diventare un'abitudine e quindi anche alla fin fine da stancare. E' quello che tanti dicono Don Riccardo quando venendo alla messa o non venendoci più, dicono tanto l'è sempre la solita storia, tanto l'è sempre precis. Allora, cosa possiamo dire a questi nostri fedeli o mezzi fedeli o fedeli della soglia, quando appunto hanno l'impressione che l'anno liturgico e quindi la liturgia porti in sé una ripetitività che rischia di diventare un'abitudine insopportabile. Ma magari prova a far fare il brindisi col vinsanto che magari metti quel guizzo di novità in più. Però ecco, io credo che non dobbiamo neanche scandalizzarci di queste reazioni, che dicono che è sempre la stessa cosa, che tante volte mi sembra un po' l'alibi di chi non ha voglia di andare in chiesa, e quindi di tanto è sempre di stesse laur e quindi mendo mia. Ma chi ti ha detto che sono sempre le stesse cose? E poi innanzitutto prova a interrogare la tua vita e guarda in quanti ambiti ci sono le stesse cose. Ecco, senza scomodare adesso i grandi educatori, però appunto le nostre parrocchie, anche noi che magari non abbiamo studiato da maestri, però sai, c'hai gli asili, senti un po' i vari specialisti, ti dicono nei bambini com'è importante che imparino il ritmo delle cose, che ci sia un po' una certa ciclicità, perché questo gli aiuta a entrare nell'esperienza della vita. Il ciclo delle stagioni non è sempre quello, prima erano le foie, in estate i frutti, in autunno cadono le foglie, l'inverno viene la neve, però questo quante possibilità ci offre. Quindi la vita è tutta ciclica, l'esperienza nostra è tutta ciclica, ci sta bene che anche la dimensione della fede conosca questa dimensione dell'inizio, della fine, del ritorno, che ti può portare non a fare le stesse cose dell'anno prima, ma con sensibilità e con attenzioni diverse. Bella questa osservazione perché in fondo dobbiamo dire che nella vita tutto ha una sua ripetitività. Pensate un pochettino il respiro, è ripetitivo, e allora siccome è ripetitivo dice è troppo abitudinario, io non respiro più, provaci. Il mangiare è ripetitivo, appunto si tratta magari di colorarlo in modo diverso, però il nutrirsi è ripetitivo, e il dormire no, che se uno comincia a soffrire di insonnia quasi quasi va un po' in tilt. Ecco, la vita ha tutto che si ripete, è appunto il ripetersi, e questo forse Riccardo, il fatto un pochettino da rigenerare. La ripetitività è necessariamente abitudine, è abitudine addirittura stancante, o la ripetitività invece offre l'occasione per capire meglio, approfondire, accogliere con un po' più di consapevolezza quello che viene celebrato. E allora ci chiediamo un momentino, dal vivo, lo sappiamo tutti per carità, ma nulla dare per scontato, l'anno liturgico di che cosa è opportuna ripetitività? Ma l'anno liturgico è opportuna ripetitività del prendere in mano la vita di Cristo, del srotolarla nei suoi anni, nei suoi momenti centrali, quindi il Natale, la nascita, eccetera, per arrivare alla Pasqua, le varie feste, e imparare a vedere la nostra vita sullo sfondo della vita di Gesù, e quindi sentirci anche noi partecipi di quel mistero di salvezza, di quella concretezza di salvezza che il Signore con la sua vita ci regala. Penso che appunto la ripetitività nell'esperienza umana ci metta anche un po' a riparo da quell'angoscia di vivere che il trovarsi sempre di fronte a qualche cosa di nuovo farebbe nascere dentro di noi. Quindi tu certo cominci qualcosa di nuovo, sai già dove arriverai a finire, quindi questo ti lascia anche un pochino in pace. Mettendoci poi dentro la bellezza della vita che avanza, delle esperienze che sono diverse, della sensibilità che magari di anno in anno cambia, perché sei cambiato tu, perché hai cambiato l'ambiente che ti circonda, perché sono cambiate magari le situazioni della tua vita, allora potrai tirar fuori qualche cosa che l'anno prima non hai potuto tirar fuori da quella festa, da quel momento, perché le tue condizioni di vita sono cambiate. È interessante sempre questo fatto. Pensiero anche per dire, noi celebriamo l'onomastico una volta all'anno, e lo ripetiamo, celebriamo il compleanno una volta all'anno e lo ripetiamo. Prova tu a dimenticarti, tu marito, tu moglie, eccetera, di fare un regalino, perché tanto le amo la storia dell'an passato, vedrai cosa succede. Come anche nel parlarsi, quando si dice anche nella vita di persone che si vogliono bene, questo dirsi ogni tanto ti voglio bene. Uno magari lo ripete anche tutti i giorni, allora non è che l'altro gli dice, magari invece è anche contento di sentire questa ripetitività musicale di certe cose che fanno piacere. Per cui ecco, direi proprio il pensiero di un anno liturgico che riprende il suo cammino, che ci riporta la storia della salvezza, la storia di Gesù Cristo, e mentre ce la fa celebrare ci coinvolge. Perché poi il bello è questo, si parla di liturgia che non è solo ricordare, che non è solo commemorare, ma è essere coinvolti in quello che celebriamo perché la storia di Cristo diventi storia nostra. E in questo direi sarà meglio che venga ripetuto, perché non ci saremo mai dentro a sufficienza in questo mistero del Signore Gesù. Il fatto anche appunto della composizione dell'anno liturgico, giustamente Riccardo diceva ci sono dei pilastri che tengono in piedi questo ponte dell'anno liturgico, il Natale, la Pasqua e la Pentecoste. E direi che è importante tenerli presenti tutti e tre, questi pilastri dell'anno. E poi Don Riccardo però dobbiamo pensare, durante l'anno liturgico ci sono un po' quei collegamenti invece, ecco, tra il Natale, prima del Natale, dopo il Natale, prima della Pasqua, dopo la Pasqua, direi che è molto importante proprio ai fini di saper valorizzare quei pilastri, perché non arrivino così come fatti impreparati. Adesso andremo e ne parliamo un attimo verso il Natale, il rischio è di precipitare sul Natale senza aver fatto un po' di cammino di preparazione. Per cui questo ponte dell'anno liturgico che ha i suoi buoni pilastri però ha anche le strade, diremmo, di collegamento tra i pilastri, se no il ponte non ci sta o no. Ma certo, i tempi forti, come si chiamano, no? L'Avvento, la Quaresima, quei tempi che precedono le feste, anche magari più grandi, ma anche più care, credo alla sensibilità di ciascuno, che si offrono appunto non solo come un momento di preparazione, ma come un momento dove riscoprire anche i colori di questa festa. Sai, Don Leone, riguardo la ripetitività che magari può pesare a qualcuno, penso che un buon antidoto potrebbe essere quello di liberarci dal pensiero che appunto nei tempi anche di preparazione noi dobbiamo quasi prepararci a un evento che è già accaduto. Non è che dobbiamo far finta, lo dico sempre alla mia gente, saranno anche stanchi di sentirmelo, che Gesù non sia nato per quattro settimane, perché per poi la vigilia, il 24 dicembre, che bello è nato. Ma certo che è nato, è nato duemila anni fa, quindi il primo giorno d'Avvento, la prima domenica, la seconda, la terza e la quarta è già nato. Però appunto ricordando anche quell'attesa storica della nascita di Gesù, aiuta te credenti a dire guarda che la tua vita è sempre un'attesa del Signore. Guarda che giorno dopo giorno tu vai incontro al Signore, non solo perché la tua vita più vai avanti più si accorcia il tempo che hai da vivere e quindi ti incontrerai con Lui, ma anche perché se tu tieni vivo questo senso di attesa, lo saprai riconoscere giorno dopo giorno della persona che ti incontra, in quel momento della vita che ti stimola particolarmente a prendere posizione e tu riconosci una visita del Signore. E questo è importante, ecco il primo momento dell'anno liturgico, questo tempo di avvento che ci orienta alla celebrazione, alla memoria del Natale del Signore Gesù, è su tre versanti praticamente il tema dell'avvento. Si rischia un pochettino forse di non evidenziare, che invece la liturgia credo che ci aiuti in questo, di evidenziarne soltanto uno, l'avvento che ci prepara a celebrare il Natale del Signore, giustamente come dicevi con il rischio anche di far finta che non sia nato per poter dire poi viva viva è nato Gesù, che sarebbe veramente un po' troppo poco. Ma direi ci sono altri versanti del tempo di avvento che vanno opportunamente evidenziati perché non si perda il senso pregnante di questo tempo che precede il Natale. Ma senz'altro, la dimensione se vogliamo del ripercorrere l'attesa storica della nascita del Messia, liturgicamente Don Leone, è da collocare negli ultimi nove giorni quella che era la novena di Natale, e lì allora i testi liturgici, i Vangeli, sono tutti orientati verso il Natale come la nascita del Messia. I Vangeli invece, dall'inizio dell'avvento fino a quando comincia la novena, sono più orientati verso l'avvenuta del Signore alla fine dei tempi. Quindi dici sì, ricordiamo anche i tempi in cui aspettavano il Messia, ma non per tenere in piedi i fantasmi del passato, ma per dire guarda che anche tu devi sempre vivere in attesa del Signore. Guarda che il Signore vedo che è già presente, però devi anche attenderlo, saperlo riconoscere, perché i segni della sua presenza sono sempre molto discreti, non arrivano mai a imporsi con violenza a te. E quindi devi anche affinare la tua sensibilità perché tu possa affiutare questi segni e riconoscere il Signore che viene. Certo, questo che ripetiamo anche nella Santa Messa, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. A volte io, un pochettino dicendo, nell'attesa del tuo ritorno glorioso, proprio perché non ci sia l'impressione che parlando di venuta, semplicemente ci riferiamo, fondamentale, alla venuta storica di Gesù, chiaramente che celebriamo, che riviviamo, ma quel senso di un Gesù che tornerà glorioso, l'avvento definitivo, il chiudersi della storia umana, l'aprirsi della scena del regno di Dio finalmente realizzato, direi che è quello fondamentale poi per ciascuno, come anche il fatto dell'avvento, che ci ricorda che il Signore viene ogni momento, ti viene incontro, e appunto, come dicevi Riccardo, ti viene incontro nelle situazioni, ti viene incontro negli accadimenti, ti viene incontro nelle persone, eccetera. Ecco, credo che questi tre aspetti dell'avvento vadano riconsiderati tutti e tre, appunto non caricandone semplicemente uno a detrimento degli altri, o come succede non caricando più neanche niente, perché tante volte il Natale rischia di finire in firlin, firlorum, perché si fa festa, con il rischio di non sapere più neanche perché facciamo festa. E chi è il festeggiato di turno? Povero Gesù Cristo tante volte, magari salta fuori un momento in qualche messa di mezzanotte, così, tanto per precedere il brindisi notturno. Ecco, sarebbe veramente grave che per dei cristiani perdessimo il senso vero di questa celebrazione. In questo senso mi pare che dentro il cammino dell'avvento escono fuori delle figure che sono proprie, direi, del tempo dell'avvento che forse ci aiutano. La liturgia li mette in scena. Cammin facendo nell'avvento mette in scena questi, chiamiamoli personaggi, per intenderci queste persone che nella storia di Gesù sono entrate in modo veramente forte. Vabbè, senz'altro, partendo dall'attesa del popolo d'Israele, insomma, Abramo vive duemila anni prima di Gesù, quindi c'era già una bella fetta di storia che precedeva l'avvento, la nascita storica di Gesù. Quindi, come non pensare, Don Leone, alla grandezza di alcune profezie di Isaia. Ecco, profeta Isaia, sappiamo bene che non è uno solo, nel libro di Isaia confluisce l'opera, l'esperienza di fede di tre profeti diversi. Però, comunque, ecco, questa attesa, questi canti che prefigurano il momento in cui il Messia arriverà, che appartengono appunto al libro di Isaia, sono qualche cosa che riechieggia spesso nel tempo di avvento. Poi, come non pensare al precursore Giovanni Battista, che effettivamente non è che ha vissuto prima di Gesù, perché aveva sei mesi di più, quindi contemporaneo di Gesù, ma la sua vita è stata tutta protesa al fatto che Israele potesse rendersi conto che il Messia era lì, era colui al quale, diceva, io non sono degno neppure di sciogliere il legaccio dei sandali. Ma poi come non pensare a Giuseppe e a Maria? Ecco, Giuseppe, che non è appunto così uno che è lì, fare la sua parte in maniera quasi un po' sciocca, no? Mi fa sempre impressione quando la nostra gente, a volte, quando deve definire un uomo un pochino troppo buono, troppo bonaccione, si dice, è un po' San Giuseppe, non dice la grandezza di Giuseppe, che appunto non è un pirlotto qualsiasi che era lì senza sapere bene cosa fare, ma è un uomo di grande fede che accoglie il disegno di Dio sulla sua vita, anche non sapendo bene dove questo lo porterà, ma sta al gioco di Dio e diventa padre, non, se vogliamo, naturale, ma diventa padre per presenza, per educazione, per quello che sarà nei confronti del figlio di Dio. e quindi se Gesù dirà che Dio è padre vuol dire che ha avuto anche una bella esperienza di paternità per riuscire a fare questo collegamento così grande e così bello e poi Maria col suo sì, col suo mettersi a disposizione. Quest'anno avremo anche il fatto che una domenica di avvento sarà soppiantata dalla solennità dell'Immacolata, però insomma ci sta sempre dentro bene la festa dell'Immacolata in questo cammino di avvento. Anno liturgico nuovo, prima parte dell'anno tempo dell'avvento, una cosa a cui accenniamo anche solo è il fatto che ogni anno liturgico ha un evangelista che accompagna in modo particolare. Ormai sappiamo tutti la storia dell'anno A, anno B, anno C, lo sanno anche i ragazzini, l'anno in cui corre il Vangelo di Matteo, l'anno in cui corre il Vangelo di Marco, l'anno in cui corre il Vangelo di Luca e il buon Giovanni che arriva in tutti e tre gli anni nei momenti diciamo topici, momenti significativi. Lo dicevamo ancora un po' il panchinaro di lusso San Giovanni che entra dentro e fa gol nei momenti in cui serve che la squadra sia tenuta su e realizzi bene. Quest'anno andiamo a riprendere il Vangelo secondo Matteo, direi così, per quanto ne abbiamo un pochettino studiato, tu sei più recente e fresco di studi, ecco, quale può essere un momentino la caratteristica, l'accenno particolare con cui l'Evangelista Matteo raccoglie e rimanda e fa eco alla vita e alla storia e alla testimonianza di Gesù? Ma sappiamo che appunto la critica ci dice che il Vangelo di Matteo è stato scritto intorno al 70 dopo Cristo, c'è qualcuno che vuole portare un pochino più indietro questa data, però sicuramente appunto in un tempo in cui i testimoni oculari erano ancora vivi anche se magari qualcuno cominciava a morire quindi si sente l'esigenza di mettere per iscritto. Qualcuno dice che il Vangelo di Matteo risenta anche del Vangelo di Marco che forse è proprio il primo ad essere stato scritto e anche di un Vangelo che non è mai stato trovato ma che si pensa possa essere un pochino il nucleo essenziale da cui sono partiti sia Matteo che Marco che Luca a scrivere i loro Vangeli e sono un po' quei punti di contatto che ci sono tra i tre Vangeli di Matteo, Marco e Luca quelli che sono chiamati sinottici. Ecco, non stiamo qui adesso a fare tutti questi discorsi ma semplicemente diciamo che la comunità per cui Matteo scrive perché non dimentichiamo che gli evangelisti non hanno scritto per la gloria quindi scrivo il Vangelo che arriverà chissà dove chissà quando per chi farà il cristiano due mila anni dopo di me scrivono per una comunità ben precisa con delle caratteristiche ben precise e quindi anche noi in base a chi è il nostro destinatario del discorso non dico inventiamo le cose ma adattiamo il discorso è un conto sepalo con un laureato con un ragazzo di terza media con un bambino di sei anni o con un neonato il mio linguaggio avrà stili diversi in base a chi è che deve ricevere il mio messaggio ecco Matteo scrive per quei cristiani che prima erano stati ebrei che provenivano dall'ebraismo quindi il suo Vangelo in tanti momenti cercherà di mettere in luce come Gesù sia stato il compimento di quelle attese antiche chiaramente se scriveva a cristiani che venivano dal paganesimo non stava lì a spiegare tutte le cose del cosa pensava Israele per dire ma siccome parlava israeliti con sensibilità israelitica con una conoscenza della tradizione ebraica profonda ecco che mette in evidenza tante volte come Gesù sia il compimento di questa storia di Israele bello questo qua soprattutto ecco questa contestualizzazione che è importante tant'è che nel Vangelo di Matteo si trovano tante citazioni dei testi dell'Antico Testamento cosa che negli altri evangelisti ovviamente corre di meno di fatto anche di una composizione a discorsi si parla dei grandi discorsi dell'Evangelista Matteo comunque direi abbiamo modo sarebbe bello che lo prendessimo anche un po' in mano cammin facendo mentre lo sentiamo brano per brano di domenica in domenica in questo nuovo anno liturgico e siccome è un nuovo anno possiamo anche augurarci cristianamente il buon anno giustamente perché iniziamo questo cammino pensando anche un pochettino che l'anno liturgico è intrecciato nella parola di Dio nella liturgia nella preghiera eccetera liturgia è dove c'è comunità cristiana che celebra il suo Dio che accoglie la sua presenza che trae beneficio da questa celebrazione ricordando anche una cosa semplicemente liturgia non è solo messa è vero anche che dovremmo dire fosse messa anche solo per tanti che rischiano di abbandonare addirittura questo cuore della vita cristiana e della fede cristiana però ricordiamoci appunto che non è solo messa perché liturgia è parola di Dio ascoltata in modo anche solenne è preghiera la liturgia delle ore quotidiana e i sacramenti che non sono solo l'eucarestia ecco direi il percorso dell'anno liturgico può aiutarci a riscoprire un po' anche questi motivi che fanno da nutrimento della nostra vita di fede se vogliamo tener salda un po' anche la nostra speranza e direi che ce n'è proprio bisogno allora auguri di buon anno per un buon cammino di fede e per una serena speranza che ci abiti sempre grazie Don Riccardo della tua presenza e testimonianza grazie a voi che ci avete seguito l'augurio di una buona domenica di inizio avvento e di inizio di nuovo anno liturgico grazie a tutti